Ok, è vero. Ero convinta che finalmente ci stessimo riavvicinando e ora lui invece è come se scappasse via. Lei gli ha chiesto spiegazioni? Certo. E lui ha detto è tutto a posto. Cosa le dice che non lo sia? È il fatto che si comporti come un idiota. Si è presentato sotto braccio alla sua preda e si è affiancato ad un altro poliziotto. Magari dal suo punto di vista dovrebbe domandarsi che cosa non ha fatto. Come sarebbe? Che intende dire? Quando le hanno sparato, Castle le ha detto che l'amava. Quanto tempo è passato? È stato sei mesi fa, ma non ero pronta per una storia. Stia dicendo col suo comportamento. Che mi amava e ora invece non mi ama più e che è meglio lasciare perdere.